Cosa fa Cristiano adesso? Chiaramente purtroppo ho dovuto smettere di sciare nel 2006, causa di forza maggiore per il mal di schiena e da quando ho smesso mi sono dedicato ai motori che ho avuto la possibilità tramite Zanardi di entrare in BMW e mi sono dedicato a le gare in macchina per 5 anni, dal 2006 fino al 2011 poi dopo chiaramente un po' la crisi si faceva fatica a trovare gli sponsor e ho abbandonato anche questa strada e sono ritornato di nuovo nel mio vecchio mondo che era il mondo dello sci e seguo dal 2011 la Croazia, mi hanno chiesto una collaborazione per quanto riguarda le spine veloci di Cisa Libra in primis Ivica Kostelic, insieme anche a Natco e Zub, ci sono un altro paio di atleti in una squadra ridotta però li seguo in Coppa del Mondo per le discipline veloci in più adesso da un anno e mezzo stiamo in dei soci, abbiamo messo su una struttura a cortina che ci sarà all'inaugurazione a fine dicembre dove vogliamo dare dei servizi completi a 360 gradi dove uno può venire da noi e fare un po' tutto quello che vuole inerente sia il summer che però anche il winter da freeride al fondo al telemark, allo snowboard e quindi sport a 360 gradi beh la Coppa del Mondo insomma i nomi sono quelli un po' quelli dell'anno scorso purtroppo uno dei grandi candidati a vincere la Coppa Generale si è fatto male poco tempo fa, pochi giorni fa, giocando a calcetto però questo lo dicono in media, magari a correre così comunque può capitare e quindi Askel, Lund, Zwindal non sarà uno dei protagonisti ma ci sono sempre tanti altri nomi gli italiani, anche diciamo quelli che sono stati un po' il leader dell'anno scorso saranno quelli che faranno, penso che punterà l'Italia però ci sono anche tanti giovani sia nelle discipline tecniche che nelle discipline veloci sia maschile che femminile, insomma si spera che l'Italia diventi magari l'Italia degli anni della Valanga Azzurro oppure anche degli anni tomba, nei quali ero anche io che avevamo veramente una gran bella squadra insieme a compagnoni Vitalini, Peratoner, tanti alciatesini, le donne, Panzanini, Kostner insomma speriamo che l'Italia possa dire la sua in campo internazionale nello sì